Un saluto a un amico, un amico personale e un grande amico dell'Italia. Penso che Juncker in questi anni abbia guidato la Commissione con grande ragionevolezza e con attenzione ai problemi europei e anche dando un contributo molto spesso alla soluzione di questioni complicate. Quindi la mia era una visita di cortesia, come si dice, per ringraziarlo per il suo lavoro e naturalmente un lavoro che si prolungherà per qualche settimana. Quindi immagino, ma questa non è una decisione mia e se si prolungasse gli ho fatto anche i migliori auguri perché saranno settimane anche complicate e importanti su tanti terreni. Per quanto ci riguarda noi aspettiamo che si completi il percorso di formazione della Commissione. Il Parlamento ovviamente svolgerà il suo ruolo nelle prossime settimane e io non vedo l'ora di cominciare per cercare di dare un contributo. Aspetti, aspetti, aspetti. Arrivederci, grazie. Per lei sarà un sollievo immagino. Grazie.